Si schiarisce il destino della panchina Maranto. Il primo scoglio, forse il più grande, è stato superato. Nella mattinata di giovedì, nella sede del Movimento Cristiano Lavoratori di Arezzo, Dal Canto, l'AMMA e la società Maranto hanno ratificato l'accordo per la recessione del contratto. In rappresentanza dell'Arezzo c'erano il direttore sportivo Emiliano Testini e il segretario Zinci. All'uscita Dal Canto non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Da entrambe le parti, evidentemente, alla fine è prevalso il buonsenso a nessuna delle due. Avrebbe fatto comodo persistere in questa situazione di stallo. Ora Dal Canto sarà libero di accasarsi altrove. A Siena danno per fatto il suo arrivo. E sulla panchina Maranto tutti gli indizi conducono verso Daniele Di Donato, 42 anni, grande centrocampista dell'Arezzo, 77 presenza in Serie B. Tra il 2005 e il 2007, fresco vincitore di un campionato difficile come la Serie D, alla guida dell'Arzignano. La società vicentina lo aveva comprensibilmente riconfermato dopo il trionfo, ma Di Donato non ha legami contrattuali da rescindere. Da quello che trapela tornerebbe molto volentieri ad Arezzo in questa nuova veste. La sensazione è che l'annuncio possa arrivare a breve.